Dalla Russia ad Hollywood, poi è successo il calendario bellissimo, le cose più belle. Qual è stata questa esperienza? Buonasera a tutti dalla Russia con l'amore. Questa è stata un'esperienza meravigliosa, dove veramente mi potete conoscere, non solo vero e scorcamente, ma vero e vero e vero. Quindi, un bellissimo calendario, ispirato ad Hollywood, a vero. Se ora ti senti più attrice o più modella? No, guarda, sinceramente io mi sento, come avevo già detto, modella. Perché a parte che questo lavoro pare la modella non vuol dire solamente apparire. Perché nelle fotografie bisogna sempre comunicare, fare il sguardo giusto, dipende anche dalla vita, se è elegante, deve essere elegante. Se è un abito un po' provocante, deve essere una cinghia. E ci si trova una recitazione, semplicemente, criticamente bella, non puoi salvare. Giustissimo, bene. Allora, intanto vi faccio gli auguri per tutta la presentazione, che potremmo essere un tour di presentazione molto bella. E diciamo anche agli utenti che potranno seguirti sulla tua pagina facebook. di lanciare bene ancora questo calendario perché il 24.00 che facciamo il lancio ufficiale a 55.00 a Milano, nel ristorante. Quindi vi invito tutti, dalle ore 20.30. Poi spero di andare anche a Miami con questo progetto, girare per l'Italia. e a qualsiasi persona che vogliono collaborare e anche far parte del nostro progetto come sponsor, benvenga. Possiamo parlarne. Io che, scusate, ma credo che qua ancora non chiudo. e il nostro progetto avrà sicuramente una lunga vita, perché veramente ci meritiamo. E questo è solamente l'inizio. L'inizio, bene. E la cosa importante che io volevo anche dirvi è che questo calendario, Olivo Dlen 2018, io ho voluto dedicare alla grande famiglia del Giro d'Italia di Hanybike. Perché io con loro sono stata Miss Maglia Rosa per due anni. Se vedete questa fotografia, qua siamo di gruppo. E noi abbiamo questa amicizia proprio grandissima. E la prima cosa che volevo fare è dedicare questo calendario proprio a questa grande associazione. Per quello che io ho detto, non solo vera, ma anche tanto amore. Quindi un calendario che ha anche uno scopo di solidarietà. Un scopo benedico di tutti i sensi. Quindi abbiamo capito che tu, l'italiano è normale. Vai ad Ollywood, però salutiamo i nostri amici di russi. Dostante domani, amici, amici. Dostante domani, amici. Io spero di parlare ancora in russi, perché vivo in Vittalia già 15 anni. Io vi mostre il mio calendario di Alivud Lent 2018. Enrico Ricciardi, un fotografo molto famoso, mi ha invitato a partecipare in questo progetto. Il mi ha invitato a filmare in questo calendario come Kinodive, Marlene Dieterich e Greta Garbo. Grazie a tutti i nostri spettatori, mi ha invitato a partecipare in questo progetto. E questo calendario mi ha servito a partecipare alla sportiva, che si chiama il giro di Italia di Handbike. E la partecipare, la partecipare del progetto, la partecipare del progetto, la partecipare del progetto, la partecipare del progetto, perché siamo molto amici, perché io sono due anni con il mese Marlene Rosso. E chi ha chiesto il progetto il progetto il progetto, scrivete mi sul sito www.veraatiuschino.it e lo soggiorno. E lo soggiorno, che mi ha trovato. E lo soggiorno, che mi ha detto, che mi sono molto felice. Questo progetto è veramente molto bello. E scrivete, vedi anche a me il mio progetto 24 ottobre in Milano, al Ristorante 55, e lo soggiorno. E vedi, vedi, vedi e vedi, vedi. Io sono molto felice. Bene, abbiamo tranquillizzato gli amici russi. Lei ricorda ancora il russo? Bene, qualche cosa sono ricordata, perché non è, diciamo, semplice a spiegare, perché sono due lingue completamente diverse. Però... Si è calata benissimo. Bene, noi ti ringraziamo e ti facciamo un bocca al lupo per tutto e complimenti per tutto il video. Ok, vi ringrazio che siete venuti questa sera e mi avete dato questa opportunità, di questa visibilità. Grazie. Grazie a te. Grazie, grazie. Grazie, grazie.